Allora, da dove vieni? Sono stato adottato, perciò... Sto iniziando a ricordare una vita che avevo dimenticato. Va tutto bene? Avevo un'altra famiglia. Una madre. Un fratello. Tua madre com'era? Bellissima. Devo ritrovare la via di casa. Quanto sei rimasto sul treno? Un paio di giorni. Mi ricordo solo vagamente la stazione. Ci sono migliaia di stazioni in India. Ci vorrebbe una vita per trovare quella giusta. Abbiamo messo un annuncio sul giornale, ma non ha risposto nessuno. Nemmeno la mia mamma. Mi dispiace che non abbiate avuto figli vostri. Avremmo potuto, ma abbiamo scelto di non farlo. Abbiamo scelto te. Ogni notte mi addormento immaginando di percorrere la strada di casa e di rivedere mia madre. Per sussurrarla all'orecchio. Solo qui.